Buongiorno, allora, come avevo promesso oggi volevo fare il vlog mentre facciamo l'albero di Natale quindi niente, adesso sono le 4 e sto finendo di vedere amici, adesso è praticamente finito e abbiamo tirato giù tutte le cose da mettere nell'albero, tutte le palline, queste qua le abbiamo comprate al Viridea quest'anno sono tutte, non so tipo con cosa è fatto ciao e quindi niente, adesso iniziamo perché non ti facci il coso e lasci mentre fai l'albero, poi quando fai il video lo fai vedere tutto velocemente in un minuto la costruzione ma glielo dite voi o glielo dico io che l'ho già fatto l'anno scorso? non ho mai visto la costruzione dell'albero dall'inizio alla fine, tutto in un minuto ma infatti adesso la metto però ho letto qua, ferma adesso lo metto no, proprio perché ho letto, ferma qua allora abbiamo appena fatto il nostro bellissimo albero di Natale, posso zoomare? sì dai adesso vi faccio vedere quanto è bello quanto buono e quanto è bello, sì in effetti sopra è un po' tanto illuminato a vederlo da qua adesso vi faccio vedere la mia bellissima topina guardate quanto è bella la mia topina di na concentrata a scrivere canzoni di Natale le manca il cappellino di Natale poi mi hai detto bellissime calze ah già è vero, ho sentato ho sentato, ho sentato ma che bello che sono lo ho comprato stamattina le ho pagate infatti faccio un altro le ho pagate 4 euro no no, che buco che bello che è dentro sono tutte quel peluscione in effetti sto pezzo stona perché è fortissimo sopra nella notte santa sono della lontana l'ecco di campane il bordo in lontano canteremo insieme la sonda e i campanelli adorando il mondo a lontano a a a a a a a a i a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon film a noi. Allora, abbiamo appena finito di vedere il film. Luca si è addormentato tipo a metà. Per la prima volta ho finito di vedere io un film e Luca no. Adesso sono le 8-20. E niente, stiamo mettendo su da mangiare. Una cosa molto easy, anche perché io ho un mal di pancia, facciamo la pastina. Poi ci sono Luca, mangia i Wuster. E sta mangiando ancora la pizza, che ho fatto io oggi. E io mangio i finocchi. Adesso buttiamo la pasta. Visto che bolle. Bolle? Bolle, bolle. Qui. E abbassiamo. Sì, è buono. Mi fa la pizzetta, ma non lo sa qua nessuno. Non c'è più una catena di ristoranti, non c'è più l'estero. Ma catena. Ma catena. Allora, sono le 11 passate, credo. Fa abbastanza freddo. E adesso stiamo andando a bere qualcosa dopo aver litigato amaramente. Colpa sua. Certo. E quindi niente, adesso andiamo in un locale a bere qualcosa di tranquillo. Poi andiamo a Casina. Ho dormito un'ora e mi sono ripresa. Bravissima. No, ma non fa freddissimo. Sì? Strano, cioè. Luca che c'ha freddo. Beh, insomma, dai, può fa freddo.